Ma che piano saliamo? Tredicesimo. Sai che domani in Italia sono provisti 35 gradi? Ma dai! Domani un anticiclone africano porterà sulla nostra martoriata penisola temperature torride mai sentite in passato. Oddio! Ah, ti ho fregata! Era una fake news! Perché lo fai? Beh, magari sono un inserzionista che è desideroso di venderti un condizionatore, o magari sono un personaggio politico che vuole convincerti che se tu voterai il mio partito io ti garantirò temperature temperate tra i 20 e i 25 gradi per 365 giorni all'anno, o magari sono un istigatore d'odio che vuole convincerti che queste temperature così alte sono determinate dallo spostamento di masse di nordafricani sulla nostra penisola. Soldi, potere, istigazione all'odio, questo sta al principio delle fake news. Capisco. Comunque era una bugia, una fake, non è vero che domani sono provisti 35 gradi? Cioè, adesso, era... oh, mi sei... Ecco, fa sempre più rumore la fake news che la smentita di quella fake news.